ciao ragazze ben ritrovati sul canale benvenute vi faccio un piccolo haul svuota la spesa diciamo però non sono nata nel negozio fisicamente il negozio online quindi da faberlic vi faccio vedere cosa mi è arrivato perché ho tutto qua allora della nuova collezione che è uscita campania 5 che si chiama it's clear che è una collezione fatta con il packaging tutto reciclato e tutto vegan e tutto un sacco di referenze ecco qui sul pack se volete vedere anche ingredienti naturali 98 per cento sono tutti ingredienti ingredienti naturali e non sono testati sui animali e ha un sacco di proprietà primo prodotto che l'ho preso la collezione è composta da vari prodotti io non ho trovato tutto disponibile cercherò di prendere anche altre cose in prossima campania la copertina del catalogo già parla della novità vedete qui la collezione quasi interascia nel senso che c'è la bb tinte la bb si fondotinta bb unisex che la possono usare sia maschi e femmine una cipria è una cipria particolare del balsamo labbra colorato del balsamo labbra a diversi gusti un mascara e questo sinceramente non lo so che cosa è un limpo un water limpo lip ink che non è ancora uscito io invece ho preso questo fondotinta unisex che si trova in sei colorazioni quindi se lo volete usare l'estate quando siete più abbronzate sappiate che esiste anche il colore più scuro io qui ho preso l'avorio un lavoro si lavori o caldo che il 6552 la terza colorazione è fatto così il packaging un prodotto buono mi piace tantissimo l'ho usato anche fattore di protezione credo che sia 15 sono nero è un prodotto curativo perché curativo perché contiene acido aluronico estratto organico di melograno di jameseng scusate e centella asiatica quindi anche se voi avete problematiche di brufoletti di pelle che si infiamma questo è buono ecco perché indicato anche per gli uomini perché sapete che anche gli uomini dopo barba a volte che si fanno la barba si posso si possono irritare nasconde bene anche le imperfezioni coprenza come la coprenza sappiamo che le bibi bb cream cc cream le tinte bibi in genere partono da una coprenza leggera stratificabile verso una coprenza media quindi se lo stratificate ottenete media se cercate un prodotto con una coprenza alta questo non fa per voi poi ho preso la pomata ecco si lancia fabbrica anche con una pomata per le sopracciglia meno male perché era ora è disponibile in catalogo in tre colorazioni in biondo marone marone scuro io ho preso il marone la correzione di di mezzo vi dico la verità mi trovo benissimo ce lo indosso anche tuttora non con la non sbava dove la mente ma sapete come sono queste pomate unica pecca pecca per me non è una pecca va benissimo così il flaconcino è piccolo non so quanti grammi se ci riesco a dirvelo 5 grammi di pomata io ho dei dei altri brand in casa e non hanno questa quantità però vi dico una cosa preferisco questo anche se sembra una cavolata perché perché le pomate in tempo tendono a seccarsi e con una pomata di questa che ne ha 20 grammi credo non è a 6 quindi è un po di più però non capisco perché questa è più piccola questo è più grande vedete c'è quella di nabla che comunque per me va benissimo cioè per l'uso che si fa sei mesi questa va benissimo quindi se la volete prendetela che è buona poi ho preso la cipria che la cipria anche le lo trovate in sei colorazioni eccola qui ok la cipria un costo di 14 euro 49 non è un prezzo basso cioè mi sembra un po però è una cipria particolare una cipria che non ostruisce i pori e fa respirare la pelle è sempre una cipria che ha ingredienti di origine naturale al aloe vera restato di melograno ea un fattore di protezione 15 ed è una cipria compatta a base di polvere naturale che crea un finish naturale correggio uniforme e conferisce un effetto matt eccola qui sono 7 grammi di prodotto non è nemmeno tanto però la vedete ha una bella trama l'ho usata perché ormai si nota questa trama così e io ho il colore credo il beige vaniglia che è il secondo 65 96 poi ho preso anche perché non ho trovato i balsami per le labbra ho preso il siero illuminante viso glow drops ci sono disponibili due colorazioni li ho prese entrambe questa è la champagne è fatta così con la pipetta ok e poi c'è anche il rosa perla il rosa perla cosa fanno queste gocce non sono le classiche gocce illuminanti che siamo noi abituati perché contengono la vitamina c estratto di papaya bacche di goji ed è un siero che vi cura la consigliano da spalmarlo su tutto il viso consiglia all'azienda con un pennello perché non lo so io non la uso su tutto il viso quello è fatto glori non mi piace molto però non non è nemmeno tanto luminosa cioè nel senso che non ha tanto di quel glitter o in alcune goccia a volte ho trovato più glitter che in questa poi mi sono presa dall'aria business questi nastrini a me servono per quando faccio gli incontri li do alle clienti spruzzo il profumo poi lo metto come un nastrino alla mano poi ho preso crema da giorno della collezione della linea one week miracle è una crema particolare non la indico sulle peli giovani la indico sulle peli mature una crema molto bella con un pack bellissimo una crema con 15 di spf una crema che aiuta in sette giorni a ringiovanire la vostra pelle se non l'avete mai curata e vi dà anche protezione esiste la crema notte di questa linea esiste anche la maschera siero e contorno occhi poi ho preso il la la maschera per il viso rigenerante della serie skin expert activator l'avete già vista questa qua da me quindi posso recensire per bene il prodotto perché ne ho usato per varie volte guardate il packaging pazzesco con sistema di apertura schiacciate qui e qui sopra vi esce il prodotto a aria compressa questo è per viso e colo potete metterlo anche sud e colta è una maschera che si mette prima di andare a letto non dovete sciacquarla la mettete lì e lì dormite la usate come una crema note ed è ottima vi fa venire un volto una pelle che non avete idea la mattina e poi ho preso due sieri sia la crema sia la maschera e anche siero le ho presi con i sconti quindi non le ho pagate prezzo intero perché ho preso anche due sieri sono uguali dalla stessa linea skin activator quella di mantenimento la linea grigia grigia argento eccolo qui è un siero idratante questo la usate mattina sera e poi sopra ci vedete la vostra crema è un siero pazzesco io non lo so d'inverno quanti ne avrei usate mi piace tantissimo credo che per ora è il mio siero preferito in assoluto insieme a quello di rossian della linea aspettate che non mi ricordo adesso con lausus perdonatemi come si chiama della 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 sapete come quando uno a uno viene una mancanza di memoria della oceanum ok anche quello mi piace molto poi ho preso questa l'ho ripresa perché l'ho adorata a questo inverno e ho visto veramente l'effetto è una crema antimacchie per viso e mani della linea doctor core doctor core già parlato è una linea fatta appositamente per le donne con cambiamenti ormonali cioè ero in gravidanza o quando entriamo in quel periodo di menopausa che cosa succede succede che ci possono uscire delle macchie sia sul volto sia su le mani ecco questa crema sia che le previene male cura io ho visto nelle mie macchioline schiarimenti ne ho usate due questo inverno questa è la terza che l'ho presa sono 75 ml di prodotto un flaconcino molto carino perché è facile anche non è barattolino è un flacone vedete dove portare con voi anche in borsa io sopra metto sempre la mattina perché alla sera non c'è bisogno metto sempre alla mattina la crema con protezione solare perché serve alla sera nell'inverno visto che nell'inverno la pelle mi si secca un po' di più mettevo lei non mettevo magari il siero mettevo lei e poi sopra la crema notte giusto perché lei così nella notte agiva sopra quelle macchioline la poi ho preso la crema per i piedi la crema che non ti fa sudare i piedi d'odorante non te le fa nemmeno odorare linea si chiama happy steps e poi ultimi prodotti sono dei smalti sono usciti quattro smalti nuove cioè sono quattro colori di una linea nuova di smalti una linea che mi ha lasciato senza parole perché vorrei vedere cosa succede si chiama caler bref cia linea non lo so cosa centri scritto probabilmente sono ispirate dalle dal mondo arabo non so se avete notato ma in fabelic ci sono anche quei profumi ispirati dal mondo arabo qui o la curcuma ambrata se volete vedere i colori sono dei colori un po particolari un po tipo pastello ma un po diversi ma si possono usare adesso in primavera poi ci sono c'è la zenzero sabbia io li ho presi tutti a quindi queste sono tutti i colori che ve le faccio vedere si devono piacere questi colori se non vi piacciono non le prendete nemmeno poi c'è maccia azzurra questo mi piace un sacco fate che bello sembra carta da zucchero a sto celestino e poi c'è la zafferano si zafferano rosa questo è un colore portabilissimo anche semplice non da nemmeno nell'occhio si può abbinare bene con quell'azzurro lì ecco questi sono tutti i colori di questa linea sono dalle novità che sono uscite e poi appena troverò disponibilità di altri prodotti li prenderò e ve le farò avere ma voi nel frattempo se siete di passaggio e volete fermarvi sul mio canale iscrivetevi vedete anche un like seguitemi perché nell'info box troverete anche gli altri canali se volete i canali delle piattaforme dove mi trovate se volete vedere il catalogo troverete il link se volete acquistare dalla faberlic prodotti vi lascio il link di auto inscrizione così vi iscrivetevi acquistate non dimenticate di attivare anche la campanella così quando io carico un video voi sarete informati vi mando un bacio grosso e ci vediamo sempre qui alla prossima